Visto che siete per la prima volta sul mercato, quali sono le novità di quest'anno? Allora, per quest'anno noi abbiamo sviluppato la nostra attenzione su due linee in particolare che sono la IAL con acido ieluronico e la LIVS con estratti biologici certificati. I nostri prodotti provengono da un'esperienza professionale che durante gli anni abbiamo evoluto e abbiamo cercato di eliminare alcuni ingredienti sgraditi ai consumatori con altri più naturali. Quindi cerchiamo di combinare sia la performance del professionale che la naturalità del prodotto destinato poi al consumatore finale.